Il 30 luglio è la giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, tratta che vede uomini, donne e bambini vittime di gravi forme di sfruttamento, tra le altre il lavoro forzato e lo sfruttamento sessuale. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che 21 milioni di persone siano vittime del lavoro forzato. Dal 2003 in poi il trend del traffico di esseri umani è andato aumentando, con cifre che sono cresciute in modo sensibile dal 2014 in poi. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, in un tweet ha ricordato che circa il 30% delle vittime sono bambini, oggetto di ogni tipo di abuso. Dobbiamo fare di più a scritto per assicurare i carnefici alla giustizia e aiutare le vittime. La giornata è stata istituita nel 2013 con una risoluzione dell'Assemblea Generale. La giornata è stata istituita nel 2014 con una risoluzione dell'Assemblea Generale.